Buongiorno amici, eccoci qui con una nuova recensione, ve l'avevo promesso, avevo recensito il numero uno dell'uomo ragno e ho voluto fare un video per fare un po' mettere in guardia le persone che acquistano dei vecchi fumetti ovviamente le persone che sono molto esperte e lo riconoscono anche a occhio nudo però ci sono venditori disonesti che tentano di ricopertinare, magari anche invecchiando degli albi, delle ristampane statiche mettendoci la cobertina originale fatta veramente di ottima qualità per vendere poi un fumetto non lo riferirei falso ma comunque modificato e per originale nel 1995 vi avevo anticipato che la Marvel in uscita con il numero zero del Doctor Strange aveva ripubblicato l'uomo ragno numero uno della Corno, la ristampana statica così come l'uomo ragno aveva il Doctor Strange come prime storie all'interno del suo albo hanno potuto riprodurre una cosa del genere quindi adesso è il Doctor Strange che ospita l'uomo ragno con questa storia qui se vedete infatti qui c'è scritto che l'albo è un allegato al numero zero del Doctor Strange ed è anche vietata la vendita separata ovviamente questa cosa non la trovate nell'originale Corno ma soprattutto la parte posteriore fa vedere quella che era il numero successivo della testata Marvel che si riprende un po' lo stile e la colorazione della Corno però come vedete propone il numero 164 di Spider-Man che usciva in eticola a 30 marzo del 1995 quindi se vanno a ricopertinare l'albo queste cose ovviamente non ci saranno ma metteranno quello che è l'albo originale della Corno che si può già notare nella fiamma che c'è sulla copertina qui c'è scritto il primo albo Marvel in Italia riprendendo più o meno il font ma modificando quello che era la scritta e qui invece scritta tipica della Corno regalo Maxi Manifesto Gigante e molto spesso mettevano anche gli adesivi quindi insomma il Manifesto Gigante è stato modificato se trovate questo ma la differenza la trovate anche qui c'è il prezzo in lire mentre qua non c'è nessun prezzo collana supereroi ma anche la data di pubblicazione è diversa volutamente perché questo è di aprile del 1962 altra differenza la vediamo all'interno vado ad aprire l'albo perché voglio farvi vedere questo innanzitutto per chi ha un po' un occhio lungo qui legge l'uomo ragno internamente legge Spider-Man quindi una traduzione che va a riprendere quella che probabilmente era la scritta originale uscita in America giustamente ma soprattutto lo vediamo già dalla seconda pagina non ci sono pagine in bianco e nero sono tutte pagine colorate colori sì che sono ovviamente identici a quelli originali c'è qualche piccola modifica rispetto a quello della Corno ve li metto a confronto ecco qua come vedete qui c'è una tavola in bianco e nero e lì c'è una tavola a colori e voi mi direte perché qui c'è una tavola a colori? la Star Comics appena ha preso in mano i diritti dell'uomo ragno ha continuato la pubblicazione delle storie dal numero a cui era arrivato la Corno cosa ha fatto? per i nuovi lettori ha riproposto le vecchie storie ormai la Corno non aveva più una distribuzione di quelli che erano quei pochi arretrati che erano rimasti quindi per chi voleva rileggere le storie dall'inizio ma anche le storie più belle dell'uomo ragno andiamo a ricordare quelle con Steve Dicto o quelle con John Romita Senior bellissime in cui si vanno a introdurre tantissimi personaggi Gwen Stacy, il Capitano Stacy, Octopus, tutti i nemici Mary Jane, tutti i nemici più grandi che c'erano Goblin, Norman Osborn li abbiamo visti anche nei cinema grazie alla Marvel e al film di San Raimi ha proposto la ristampa con l'uomo ragno classic di tutte queste storie ovviamente quando le ha ristampate poiché l'uomo ragno ormai della Star Comics era a colori i numeri che stavano facendo della serie regolare ha voluto riproporre a colori interamente anche la serie delle storie classiche quindi noi troviamo praticamente qui dentro quello che è il numero uno dell'uomo ragno classic le stesse storie che stanno all'interno dell'uomo ragno classic quindi la storia come vi ho fatto vedere con Crash e Rogan questa parte di combattimento che c'era in cui poi lui va a trovare quello che era il criminale che aveva ucciso Pazio Ben vedete qui c'è, correttamente non ci sono le correzioni fatte dalla corno ovvero non ci sono gli occhi, le pupille gialle come metteva la corno nella parte in cui c'è la maschera dell'uomo ragno e tutte queste correttive la Marvel le aveva introdotte Star Comics e le aveva riportate nella sua edizione edizione che aveva anche dei dialoghi nuovi dei baloni in più aggiunte alcuni di Tascalie in cui veniva specificato anche qua vedete la sfumatura colorata che non c'era nel numero originale della corno quindi se vi trovate a che fare con un uomo ragno numero uno originale corno completamente a colori non vi hanno dato il numero reale originale soprattutto c'è anche un'altra differenza guardate qua, la corno aveva messo in tutte le storie la numerazione delle pagine, aveva mantenuto quello originale mentre la Star Comics in alcune storie queste qua le aveva rimosse perché non corrispondevano col numero di pagina in alcune ci stanno, in altre no, come esempio in questo caso quindi ci sono questi piccoli dettagli che tendono a nascondere o comunque a far capire che non si sta parlando di un albo originale qui c'è la storia del Camaleonte anche qua la storia del Doctor Strange è tutta a colori, lo si vede infatti su quelle che erano le tavole in bianco e nero, sono meno colorate rispetto a quelle che erano già colorate eccole qua da parte della corno quindi fate molta attenzione quando trovate uomo ragno numero uno originale corno molto spesso alcuni venditori, ovviamente disonesti mettono soltanto l'immagine della copertina, del retro o se vanno a farvi aprire un albo, ecco lo mettono così vi fanno vedere l'interno dell'albo ma chiedete sempre se ci sono le pagine in bianco e nero innanzitutto e andate a vedere proprio la qualità anche della stampa ricordiamoci che usavano carta ruvida quindi carta vecchia se trovate la carta liscia probabilmente è replicato siccome la quotazione di questi albi è parecchio alta è facile che si rendano a 100-120 euro un albo e magari vi stanno dando questo che vale poco più di 3 euro, 5 euro forse l'ho visto qualcuno che prova a venderlo a 50 ma ovviamente non lo venderà mai ma fate molta attenzione tra i due mi raccomando se cercate l'uomo ragno originale numero uno andate a prendere questo della corno di questa edizione hanno fatto un'ulteriore ristampa qualche anno fa credo per il trentennale, non ricordo bene o 35 anni in cui additura c'è il prezzo in euro, 2 euro quindi ovvio che non poteva essere un fumetto vintage quindi stiamo parlando sempre di un fumetto ristampana statica spero che vi sia utile questa recensione soprattutto una guida per evitare delle truffe perché purtroppo sui siti di Asta e Bay Vintage ce ne sono tanti che tentano di truffare venditori disonesti mi raccomando fate sempre molta attenzione spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio di cuore per esservi soffermati sul mio canale spero che questa nuova rubrica sia di vostro cadimento alla prossima da Leonard